Se ti ho fatto qualcosa, dimmi che cosa ti ho fatto. Ma è che non mi vai più a genio. Avete litigato? Avete litigato? Abbiamo litigato. Avete litigato? Sembra proprio che abbiamo litigato. Non puoi chiudere i rapporti con un amico così! È noioso, Chabon. Ma è sempre stato noioso. Magari ha fatto tutto questo per farti credere in te stesso. Come va, ciccione? Balli con il tuo cane ora? Per quale motivo sei qui? Solo per sfondarti la porta e insultarti. Perché non parli più con padre che sollevano? Questo non è un peccato, vero padre? No, ma non è molto gentile, vero? Ecco ciò che ho deciso di fare. Ho delle cesorie a casa mia e d'ora in poi, ogni volta che mi darai fastidio, le userò per tagliarmi un dito. A partire da adesso. Ma sta zitto, padre. Davvero? Sta zitto? Sì, insomma, sta zitto. È solo un uomo noioso che deve lasciare in pace un altro uomo. Un uomo noioso? Siete tutti noiosi, cazzo! Perciò finiamola qui. Non la finiamo qui. Questo è l'inizio. Ah! Ah! Grazie a tutti.